e si è incollata la cassetta di mozart ascolteremo back perché qua è sparito io non lo so secondo me non si sente più perché è incollato di dietro lo vediamo ma secondo me non si sente più giorni sette in giorni sette in giorni giorni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.